Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, oltre il 40% della popolazione è esposta a livelli di rumore superiore ai 55 decibel. I rischi per la salute includono la perdita precoce dell'udito, malattie cardiovascolari e disturbi del sonno. Ma di inquinamento acustico si parla ancora poco. Secondo l'ONGU americana Quiet Coalition, il rumore è il nuovo fumo passivo. Una provocazione forse, ma utile ad alzare il livello di attenzione. Spesso le amministrazioni locali sono già le più sensibili e impegnate a trovare soluzioni innovative per rispondere alla crescente domanda di Noise Detox. Come azienda leader a livello mondiale, Amplifon da anni monitora il fenomeno. Con il progetto Ci sentiamo dopo per la prima volta ha portato l'educazione all'ascolto responsabile e al benessere uditivo all'attenzione dei più giovani. Abbiamo iniziato nel 2018 a partecipare ad alcuni dei principali festival musicali in Italia e Spagna. E dall'anno scorso abbiamo messo a disposizione di oltre 800 scuole un kit di edutainment. È un'app dedicata alla creazione di una mappa condivisa dell'ecologia acustica dei luoghi in cui viviamo. Abbiamo mostrato ai giovani che è possibile ascoltare la musica responsabilmente. Abbiamo riscoperto insieme a loro i suoni del passato e abbiamo immaginato i suoni del futuro. Quest'anno ci auguriamo che la community che abbiamo costruito attorno a Ci sentiamo dopo possa crescere ancora. E che l'ecologia acustica diventi sempre più un ambito di proficua collaborazione pubblico-privata per costruire insieme città smart, sostenibili e belle da vivere ad ogni età.